Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dello zaino di Decathlon Quechia MH500 da 30 litri. Uno zaino sicuramente economico, con mille tasche come vedremo, ma che proprio perché economico ha qualche appunto negativo che bisogna riportare. E ve li riporto all'interno della recensione. Iniziamo a riparlare di questo Quechia MH500 dal suo peso. Anzitutto bisogna distinguere. Ci sono due taglie per persone alte meno di un metro e settanta e persone alte più di un metro e settanta. La versione minore pesa un chilo e due. La versione maggiore pesa un chilo e tre. Il peso è già un indicatore del tipo di zaino. Essendo composto quasi totalmente in poliestere, è uno zaino abbastanza pesante. Nel senso ci sono tanti zaini dello stesso litraggio che sono sotto chilo. Però non lo prendiamo tanto come punto negativo perché comunque ricordiamoci che parliamo sempre di uno zaino economico che costa 50-55 euro. Però iniziamo la recensione dalla parte anteriore, ovvero dallo schienale. Qui troviamo uno schienale traforato con una struttura a rete che, dico la verità, non è per nulla traspirante. La traspirabilità è probabilmente il punto negativo di questo zaino. È uno zaino che, anche utilizzato in escursioni primaverili, mi ha fatto sudare parecchio. Forse è lo zaino che mi ha fatto sudare di più tra tutti quelli che ho provato. È sicuramente un punto negativo, una cosa che dovete tenere in considerazione se volete andare ad acquistarlo. Però se pensate di utilizzare lo zaino saltuariamente, una volta al mese, comunque non così tante volte, per non tanti giorni durante l'anno, vabbè, uno fa un piccolo sacrificio e ci può stare. Per quanto riguarda gli spallacci sono belli imbottiti. Loro sono abbastanza traspiranti, invece, ed essendo avendo una sezione abbastanza larga, sono veramente comodi. E sugli spallacci troviamo anche una cosa che penso di aver trovato solo in questo zaino, ovvero una piccola fettuccia dove andare a riporre i pollici quando camminiamo. È una cosa veramente vecchia. E dico la verità, io una volta che aprofitto la recensione queste fettucce le vado a tagliare. Sono sincero. Sempre sullo spallaccio, come chiusura, troviamo la possibilità di andare ad utilizzare la cinghia pettorale che si muove in alto e in basso su un binario. E la cosa buona è che ha all'interno anche una parte flessibile, quindi che va ad allargarsi e a diminuire di diametro in base al nostro respiro. Quindi non ci sentiremo compressi quando la utilizziamo. Scendendo arriviamo alla zona della cinghia lombare. Questa qua è abbastanza traspirante ma la cosa che mi ha lasciato veramente sorpreso è lo scarico del peso. Questa cinghia scarica veramente veramente bene. Io ci ho portato 10 kg e più e veramente scarica davvero davvero bene. Altra cosa che mi è piaciuta sono le enormi tasche che troviamo sul laterale sia da una parte che dall'altra. Sono veramente grosse. Ci sta di tutto e di più. Ci può stare anche una piccola macchina fotografica, telefono, barrette, crema solare. Davvero ci sta di tutto. Soprattutto sulla cinghia lombare che è uno di quei punti dove anche se esagiamo un po' col peso non lo sentiamo. In conclusione per quanto riguarda la parte anteriore abbiamo la cinghia che ci serve per andare a chiudere sul davanti e questa fatta bene. Abbastanza dura che tiene bene il peso. Anche con tutto il peso che ho portato non si è mai aperta. Vengono dati anche degli strap per alcuni quali andare a richiudere tutto il pezzo di nastro che avanza. Quindi cosa chiedere di più. E sempre sulla parte anteriore naturalmente abbiamo anche in alto la possibilità di andare a tirare le fettucce per avvicinarci lo zaino alla schiena. Ora giriamo lo zaino e andiamo a parlare della parte posteriore. Innanzitutto lo zaino come dicevamo è un 30 litri ed è a sacca unica. Non ha scompartimenti superiori e inferiori. È a sacca unica quindi lo spazio è ben utilizzabile. Ha la possibilità di aprirlo fino a media lunghezza qua in basso per andare a recuperare il materiale posto in basso. Quindi poterlo aprire diciamo come un borsone. E sempre per quanto riguarda la parte interna che vi vado a spiegare c'è un piccolo taschino all'interno dove poter andare a riporre cavi della macchina, fazzoletti eccetera. Utile ma se gli avessero dato qualche punto di sutura anche nella parte inferiore sarebbe stato meglio perché tende un po' a muoversi quando andiamo a tirare fuori il materiale ed è un po' fastidioso. Per quanto riguarda le tasche che forse è anche il punto forte di questo zaino beh sicuramente qua avrete notato questa grossa tasca rete che è fatto bene sarebbe stata meglio se fosse stata un pochino più elastica perché faccio esempio in questo caso che lo zaino è abbastanza pieno non ci sta tanta roba dentro. Diciamo che quanto riusciamo a immagazzinare di materiale qua dentro dipende anche da quanto è pieno lo zaino. Idem sulle tasche porta borracce. Nel senso la borraccia ci sta ma se è tanto pieno lo zaino si fa un pochino fatica. Si riesce a recuperare la borraccia e a rimettere da soli quando camminiamo però la borraccia viene posta in orizzontale. Questo se non andiamo ad attaccare questo cordino la borraccia tende a cadere e fa anche un pochino di rumore l'acqua all'interno proprio perché è posta in orizzontale e non in verticale. Sempre per quanto riguarda le tasche essendo posta in orizzontale la borraccia dico la verità dà un po' fastidio nel senso quando noi camminiamo il gomito va a sbattere contro la borraccia dobbiamo tenere i gomiti un pochino più aperti in una posizione non molto naturale per non andarci a sbattere. Va bene che così riusciamo a prendere l'acqua da soli però io l'avrei fatto un pochino più verticale quindi dà un pochino fastidio. Poi invece salendo troviamo queste cinghie di compressione che sono fatte bene abbiamo anche la possibilità di andare a richiudere tutto il nastro che avanza tramite queste fettucce. Fatte bene funzionano bene sono abbastanza dure quindi non si andranno ad aprire. Questa superiore è apribile quella inferiore invece no e qui possiamo andare a riporre volendo anche un materassino un qualche oggetto esterno naturalmente andando a sacrificare la tasca della borraccia. Sempre per quanto riguarda le tasche troviamo un'ulteriore tasca sulla parte anteriore anche questa il volume che contiene dipende molto da quanto è pieno lo zaino però ci sta bene una cartina se avete un piccolo kit medico anche c'è si può utilizzare benissimo. Sempre sull'anteriore poi troviamo la possibilità di andare a mettere i bastoncini però non è sdoppiabile nel senso di entrambi i bastoncini andranno messi su questo lato perché sull'altro non troviamo niente. Dulcis in fondo alla fine classica ma classica tasca sulla parte anteriore dove andare a riporre tutte le cose più piccole a portata di mano. Dimenticavo una cosa dalla parte opposta rispetto a quello che ho fatto vedere prima c'è un'ulteriore taschina talmente sono tante qui troviamo una taschina abbastanza comoda piccolina dove anche qua posso andare a riporre qualche crema solare o qualcos'altro. Come potete vedere queste tasche sono davvero tante e mi stavo dimenticando di dirvele tutte è uno zaino in cui si può organizzare molto bene il materiale in base alle nostre preferenze. Per quanto riguarda tutta la parte di acqua questo zaino naturalmente supporta la possibilità di andare a inserire all'interno una vescica con la possibilità di far uscire il tubicino sullo spallaccio davanti e non è impermeabile ma presenta qua sotto un rain cover molto classico di quelli tranquilli dei decathlon che va a ricoprire lo zaino. Perciò ora che l'abbiamo analizzato vi consiglio questo zaino? Allora secondo me ha abbastanza senso per quelle persone che lo zaino lo utilizzano poco costando solamente 50 euro è forse uno degli zaini più economici che possiamo comprare e ha comunque come abbiamo visto un sacco di funzionalità però sempre il punto negativo della traspirabilità. Come dicevo all'inizio se utilizziamo questo zaino per poco pochi giorni allora può andar bene se invece dobbiamo pensare di fare magari dei cammini un po lunghi dobbiamo utilizzare lo zaino per diversi giorni oppure dei cammini anche in montagna di diversi giorni io sinceramente andrei a spendere qualcosina in più però per il prezzo a cui viene venduto secondo me ha abbastanza senso. Perciò ragazzi la speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questo video io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo ciao